La parte dell'arbitro, giocatore a settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Una delle caratteristiche di questa squadra è saper difendere bene e oggi l'ha dimostrato, ha costruito la vittoria proprio sulla solidità difensiva. Si chiude qui il nostro collegamento, al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È stato un grande piacere. Grazie. 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 Grazie a tutti.